Grazie, grazie. Non posso dirvi quanto sia importante, quanto sia di sostegno avere una pervenza così amorevola qui oggi per noi e per Giulia. Ho visto Giulia in prima volta questa settimana e è stato un po' difficile per lui, ma è sperato che la sua libertà possa arrivare in breve, che c'è tutto il supporto che c'è nel mondo e l'Italia è il paese con i supporti più generosi e attivi. Credo sia speranzoso che tutto questo movimento sarà poi propizio alla soluzione di questa lunghissima questione. E sono enormemente grata all'Italia per tutto l'amore e per tutto il sostegno che ci state dimostrando. E in spite di l'enorme difficoltà che Giulia si trova in, fisicamente, mentalmente, posso dirvi che il vostro supporto è un antidote a quello che stanno cercando di fare con lui. E nonostante le condizioni difficili, sia emotive che fisiche, in cui si trova Giulia, posso assicurarvi che la vostra costanza nell'appoggiarlo, e nell'aiutarlo, nel sostenerlo, è proprio un antidoto. E quello che lo mantiene speranzoso in questo momento, in questi lunghi mesi e anni. E anche per i nostri bambini, sono 5 anni e 7 anni, e sono in Londra. Non potrei portarli a Milano questa volta, ma ho detto che sono venuto a tutti qui, e che Giulia ha tantissimi amici in Milano e in Italia, che stanno davvero lavorando e combattendo per la sua libertà, e che conoscono questo. Sono piccoli, ma conoscono quanto abbastanza amico per Giulia, e quanto abbastanza spirito di combattimento. E' importantissimo anche per i nostri bambini, che hanno 5 e 7 anni, non sono potuti venire con me oggi a Milano, sono rimasti a Londra, ma sanno benissimo di quello che sta accadendo oggi, sanno di tutto il supporto che dall'Italia sta arrivando al papà. E se continuiamo a combattere così, io sono sicura che alla fine Giulia sarà libera. Dobbiamo continuare a combattere. So please, keep doing what you do, keep fighting for Giulia. It's a beautiful thing that Giulia's support brings so many people together, so many people that can have their sights on what matters, which is to stand against this great injustice, stand up for this great man and be the way, the vehicle for his freedom. Keep going, free Assange. Continuate, continuate a sostenere Giulia Assange, perché è la cosa giusta da fare per combattere con questo uomo giusto finché sarà libero. Free Assange. Free Assange! Free Assange libero! Assange libero! Assange libero! Assange libero! Assange libero! Assange libero! Grazie a tutti